Quando Irene e Davide ci hanno proposto di lavorare qui per Porto dell'Arte e quindi dover sfruttare uno spazio limitato che era quello del corridoio, diciamo che non abbiamo avuto particolari problemi perché il nostro lavoro si è sempre basato sul modificare degli spazi che ci venivano dati e cambiarli completamente. L'idea è il rapporto tra la proiezione in presa diretta fatta con la webcam e le registrazioni fatte in live tu microfonando a terra. Poi nell'installazione sarà ovviamente importante il materiale che fa frizione col pavimento. L'idea sarebbe quella di avere uno sfalzamento tra la realtà effettiva e quella che poi verrà percepita in video e in audio attraverso l'installazione. Di fondo si può dire che è un po' l'interprogettuale con cui agiamo sempre, cercare di mappare uno spazio e poi riproporlo in un'altra dimensione o salsa se vogliamo.